L'obiettivo di questa partita era dimostrare anche quelli che magari sciocchiamo di meno, che siamo una squadra, siamo un gruppo, che l'allenatore può contare su di tutti. Penso che questo era l'obiettivo e siamo riusciti a fare una grande gara e metterci a disposizione per l'allenatore che dopo deve fare le sue scelte. Però noi come gruppo abbiamo fatto una grande prova. Noi se giochiamo con le nostre idee ce la possiamo giocare con tutti, quindi andremo lì a fare una grande partita e poi vediamo, nel calcio non si sa mai, quindi sicuramente sarà una bella partita. Tornando invece al campionato, domenica arriva il Torino, è una squadra che è in forma in questo momento, però la Sampdoria a Malassi ha dimostrato davvero di potersela giocare contro ogni avversario. Sì, come ti ho detto prima, noi abbiamo le idee chiare e penso che se lo facciamo in campo ce la possiamo giocare con tutti. però non dobbiamo molare l'atteggiamento, dobbiamo essere sempre concentrati e poi ce la giochiamo. Quindi sarà una partita bella, loro sono in forma, noi approfittiamo di questo momento, di giocare in casa e di fare una grande partita.